La nuova chiusura delle attività commerciali e artigianali sta mettendo in difficoltà le imprese delle quali, secondo CNA, 4 su 5 sono finite in rosso nel 2020 con preoccupanti cali di fatturato. Sia a livello nazionale che a livello territoriale riscontriamo non solo delle perdite di fatturato importanti ma anche una difficoltà a mantenere col poco di liquidità che si era acquisito nei mesi scorsi. Noi è da qualche tempo che lanciamo l'allarme su questo fenomeno. Drastiche riduzioni di fatturato anche nel Piacentino, soprattutto nei settori di ristorazione e servizi alla persona. Non siamo assolutamente d'accordo con la chiusura di questi ultimi esercizi perché anche se riteniamo comunque molto comprensibile il fatto che ci sia magari qualche preoccupazione non capiamo effettivamente le motivazioni di questa chiusura e ci auguriamo che sia molto breve pur comprendendo e rispettando, questo ci temo molto a sottolinearlo, le problematiche naturalmente di salute pubblica che stiamo affrontando. CNA ha recentemente chiesto al Governo una forte discontinuità nelle modalità di determinazione e nei tempi di erogazione degli aiuti rispetto agli interventi effettuati lo scorso anno. In particolare chiedono di evitare la tagliola del calo minimo di fatturato al 33% che potrebbe escludere dagli indennizi molte imprese che pure hanno subito un forte calo del giro di affari sostituendo questo strumento con un meccanismo a scalare che riduca il beneficio da una certa soglia fino ad annullarlo per il valore di perdita inferiore alla media.